La mafia non è affatto invincibile, è un fatto. Dica agli esponsabili, convertitevi. Il fresco profumo di libertà. Il Rocco Pinici credo che sia una delle figure più importanti. Lo spirito di servizio. È stato il magistrato che ha avviato il pull anti-mafia. La mafia non è soltanto cosa nonostrava. Rocco Pinici da questo punto di vista ci ha dato un aiuto enorme. Ma le casse di Giovanni Falcone e di Rocco Pinici. Il lavoro di Caponnetto che porta a compimento l'organizzazione del pull che aveva cominciato Pinici. Per aiutare e tradurre in realtà quello che è l'auspicio di tutte le persone che vogliono continuare a sperare in un futuro democratico. Grazie a tutti. Grazie a tutti